Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, da oggi a domenica sono in programma alcuni interventi di manutenzione sui ponti ferroviari tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Per quel che riguarda il servizio saranno limitati i treni della FL1 e sospesi quelli del Leonardo Express, previsto comunque un servizio sostitutivo con bus, i dettagli su trenitalia.com. Per questi stessi lavori è prevista la chiusura di un tratto di via della Magliana tra i civici 1175 e 1240 con la deviazione della linea di bus 023. Le altre notizie, dopo la precettazione da parte del governo, è stato ridotto da 24 a 4 ore lo sciopero dei trasporti di domani. Disagi dunque saranno possibili dalle 9 alle 13.